Ups a tutti, miei cari Upsi e Upsine, come state? Spero veramente bene, dai. Oggi sono qua solo per voi, per registrare questo nuovissimo video dove giocheremo un po' con la schiuma da barba. E già, cercheremo di non fare però troppo casino. Quindi, senza dire altro, senza dire altro, indossate un paio di curve o auricolari, stendetevi sul vostro letto e cercate di chiudere gli occhi da me. Quindi, prima di cominciare con la vera e propria schiuma da barba, intanto che magari vi dico qualcosa. Grazie. Allora, come potete vedere, ho tagliato i capelli finalmente, ce l'abbiamo fatta, puoi fare questo? E anche se ho caldo, attualmente non sto grondando di sudore perché ho il condizionatore acceso nell'altra stanza perché finalmente me l'hanno montato, quindi sto un pelino più fresco già. Cioè, ho caldo ma non sto sudando. No, ma non mi piace il suono che fa questa spugna, basta, ho cambio di idea. Allora, cosa faremo? Adesso metterò uno strato di pellicola trasparente qua sopra il microfono. E poi ci faccio chiaro un po' con le mani. Allora, la pellicola me la sono già ritagliata. Ok, allora, a detta adesso potreste sentire il mio audio un pelino più chiuso e basso. Adesso proviamo a fare una cosa. E vedi che si sente bene così invece. Ha scollato un po'. Mamma mia che bel suono. Avrei preso anche un pennello. Però non lo so, ho trovato prima questa. Non lo so. Dai che quando uscirà questo video Quando uscirà questo video Io sarò praticamente appena tornato dalle vacanze Nel senso sarò rientrato a casa da uno o due giorni E il video che uscirà poi dopo sarà concentrato sulle vacanze Quindi mi racconterete anche voi cosa avete fatto quest'estate Che ormai sarà già passata praticamente quando il video dopo questo uscirà Grazie a tutti Grazie a tutti Ok dai Schiuma da barba Stavo cercando dei fazzoletti perché poi come mi pulisco Rumore troppo forte Telecamera tutto apposto Audio tutto apposto Continuiamo Allora c'è stato un problema Io cercavo di spalmare la crema La crema buonanotte La schiuma da barba qua sopra Ma faceva un suono strano Nel senso io appena toccavo La schiuma da barba La schiuma da barba faceva un rumore strano sotto E per paura che magari Non lo so Si sarebbe rotto Ho fatto qualcosa Ho preferito togliere tutto Farò comunque dei suoni con la schiuma da barba Farò la cosa che avevo pensato di fare dopo Ovvero Mettermela sulle mani E spalmarmela tutta quanta Mi dispiace Veramente Veramente Tanto Però Dobbiamo fare così Ok Messa Messa Grazie a tutti 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 Buonanotte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti In che scuola andate? Ok dai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Un bacio